Cari amiche Sarte, buongiorno da Sara Pogliese. Oggi in Sartoria con me vediamo come è facile e originale di sicuro effetto applicare un nastro sbieco su un tessuto. Guardate infatti il grembiule che ho qui a fianco a me. È un grembiule con il tessuto di canapa in tinta naturale e l'applicazione sulla tasca e anche su tutti i profili del nastro sbieco bianco. Vediamo come sia facile realizzare questa applicazione. Il materiale occorrente è una striscia di nastro sbieco ovviamente della misura necessaria che avremo precedentemente accuratamente ripiegato a metà e stirato con il ferro da stiro. Successivamente ci serve anche un pezzo di tessuto sul quale applicare ovviamente il nostro nastro sbieco. Per questo mio video tutorial di oggi ho deciso di utilizzare un tessuto verde per creare un maggior contrasto con l'applicazione dello sbieco bianco e quindi per riuscire a farvi capire meglio come funziona l'applicazione di questa tecnica sartoriale. L'effetto finale che dovrò ottenere sarà esattamente quello di un nastro al cui interno sarà perfettamente applicato e inserito e cucito il tessuto e sarà bello l'effetto sia dal lato dritto che dal lato rovescio. Ora vediamo come sia facile realizzare questo progetto con la macchina da cucire e il piedino dedicato. Vediamo come funziona il piedino per l'applicazione del nastro sbieco. basta semplicemente inserire il piedino sulla struttura porta piedino e molto semplicemente adesso andremo ad infilare il nastro sbieco bianco sull'apposito piedino e quindi andremo a cucire anche il tessuto verde a contrasto. Allora prendiamo il nastro di sbieco, lo portiamo a battere contro la struttura del piedino stesso andiamo ovviamente anche a inserirvi internamente il tessuto. Una volta che abbiamo inserito il tessuto verde nel nastro sbieco possiamo appoggiare la fine del nastro sbieco con la schiena del piedino stesso e procedere con alcuni punti di cucitura diritti per fissare il nostro progetto. La bellezza secondo me di questo piedino è che mi va bene per più misure di nastro sbieco per cui lo posso usare sia per lo sbieco un po' più alto sia per lo sbieco un po' più basso. Alle misure espresse in centimetri per la parte bassa del piedino alle misure espresse in pollici nella parte alta per cui va bene sia per le sarte sia per le amanti di cucito creativo. Una volta che ho effettuato la cucitura che mi serviva semplicemente alzo il piedino estraggo il filo del mio lavoro, lo taglio e guardate l'effetto che ottengo. È un perfetto nastro sbieco applicato con una bellissima cucitura a margine e l'effetto bello lo ottengo anche dal rovescio perché la posizione del nastro sbieco sarà perfettamente simmetrica sia nella parte superiore sia nella parte inferiore. In questo modo sono andata ad applicare il nastro sbieco sul tessuto corda su tutto il mio grembiule da regalare. Spero che questo video tutorial vi sia sembrato utile. Vi ricordo che il piedino utilizzato è questo, il piedino per l'applicazione degli sbiechi con la misurazione in centimetri e anche con la misurazione in pollici. Vi ricordo di seguirmi sempre sul mio blog maisonchebyschic.com e anche sulla mia pagina facebook Sara Poiese. Un abbraccio sartoriale. Ciao amiche sarte!